La mani si vede meglio, ieri era una cosa angosciante. Buongiorno Anna, come stiamo? Come stiamo? Siamo bene? Siamo contenti. Una volta che funzionava tutto all'ospedale, noi ringraziamo gli tecnici della telecom, fra cui Francesco Fulco Scalabini, che stanno con me, chiede se la si è fatta le due, penso, al sistema... La fibra ottica. Buongiorno Massimiliano. Guasto la fibra ottica in ospedale, ospedale senza internet. Oh, ecco. Ci mi collega per vedere di quel bar, e guarda un po', e ci si può, meno male ieri, meno male, perché non si vedeva nulla. È per quello allora che ieri abbiamo avuto dei problemi non indifferenti. Chiuso il corpo tutta la giornata. La cosa più brutta di oggi è che c'è due lutti, ragazzi. Due lutti e due personaggi abbastanza, due personaggi importanti. Due personaggi famosi e importanti, che so, buongiorno Salvatore. Uno è Franco Onetto, Marcella Marina, e l'altro è grande, immenso. Etto Regali, quante colazioni all'IPS mi ha portato, quante schiaccine. Sembrava quando eravano plumeggi da Gabbiani. Arrivava lui con questo pulmino a portare a colazione. Aspetta a sedere, guardi, guardi, sta andando a me. Aspetta a sedere, guardi. Guardi, guardi, stamattina, stamattina, stamattina dovevi fa cosa, dico. Ma l'astoscopia. Ma l'ottoressa è malata, non c'è, e quindi da questo punto, sai che c'è, mi sono stati giù uno da ieri, mancia l'astoscopia. Buongiorno, madre, ti ha ronzato. Anna, vieni che c'è mamma. E quindi, visto che questo è proprio quello indicato. Ti ha detto Anna, mamma, che le rispondi di sera. Se non è altro per educazione, anche. Per solidarietà. Alla vecchiaia, alla vecchiaia. Siamo un tante, un'est'anno, eh. L'avete? È stato un bel felone. Settanta, eh, settanta. Ma dai. Settant'anni. Buongiorno Marcella, che ci dice buona giornata belli con voi, inizio la giornata ridendo. C'è una tecura di buona giornata. Buongiorno. Ti ciupo la mattinata? Ti va di, organizziamo la scena di settantenni. Organizziamo? Aspetta, c'è una cosina carina, gira un po'. No, perché è bellissima, lo stai dicendo. Cosa è successo? Referti, eh, per gli operatori io lo torno al passare. Cioè io. Lo fate vedere anche a me, eh? Referti, cartelle cliniche compiate a mano. Me lo fate vedere anche a me, eh? Lo facciamo vedere anche a loro? Sì, sì. Lo vogliamo girare questo giornale? Lo giriamo sul giornale. Sta partendo il cappuccino. Giù. Dicevi. Segui il dito. Segui il dito. Hanno dovuto ricopiare tutto a mano. Guarda che bellezza. Che i nostri mezzi abbiamo anche il modello midi. Sì. Vai, col dito. Hanno dovuto ricopiare tutto a mano. Si sono messi come bravi emanuenzi. Hanno dovuto ricopiare tutte le cartelle qui. Con la carta carboni. Con la carta igienica. Emanuenzi. Emanuenzi. Buongiorno. Vi vedo un po' citati stamattina. Siamo citati? No, no, no. Quello che è la carta carboni. Grande. Che dice sempre a strammatitare. È una giornata del genere sì perché effettivamente è brutto. Ho un etto e Ettore Galli. Ho due personaggi che... Ma ricordate? Guardate un po' a lui. Che spettacolo. Così da anche male. Ecco, è tornata la condizione a moto. Il grande etto. Con quel cane quando veniva. Poi anche i regini gli dovevano fare la gastroscopia con la fibra ottica. Però non c'è. Ti ricordate la carta carboni? Cioè io la uso ancora la carta carboni. Che si metteva lì una copia. E si ricopiava. La uso ancora io. Con il dito e poi rimaneva il dito blu. Nero, no? Tutto nero. Ma infatti per lavoro. Io quando a volte vado a giro devo fare le relazioni. Cioè, tu copia la carta carboni e mezzo. Scrivo una copia allora una copia. Quella di sotto non si capisce nulla. Che si capisce? E' la d'altra. E' mia. E' la gente rimane affascinata. Perché la carta carboni. Non ci posso credere. Allora anch'io facevo l'ipsia. Quante patte che ci dava quando si boccavano macchinette. Grandetro è vero. Perché poi all'ips in quell'anno era il Bronx. La smontava. Alps era il Bronx. Perché era una scuola di bibi. Quasi solo i uomini. No. E poi i risultati si sono visti. Si sono visti. E quando aveva l'altro che poi ti arrivava con questo pulmino. Tutti li a mangiare schiacine. A fare le noccolate. Se usciva il stomone c'era l'argelo. E' bagliati qualcosa. Nulla. Nulla. Però non c'ho ancora i dollari. Ma scherzi. Ma fatti quelli così hanno il cuore d'oro. Vedi eh. Mi vale a me. Io sono grasso. E' altra cosa. Il braccio. Il braccio di ferro. Il braccio di ferro. Il gestione del turismo non ha pace. Niente. Non ha pace. Niente. Verso una proroga tecnica. Capolivere potrebbe mantenere il timone. Lui tiene il timone. Anche dopo la scadenza. Però. Però. C'è il ferro che dice. Mi fai tanto. No. E' stato vedendo. No. E' stato vedendo. E' stato vedendo. Dai. Ma Claudio De Santi si dice. Scusa. Vieni. L'avete detto. L'ammettiamo. Scusa. Capofila in Vectore. De Santi. Il timone non va a te la cammette. Claudio? De Santi. Chi è? Brié. Bernard Brié. Bernard Brié. Bernard Brié. Per noi Bernard Brié. E noi Bernard Brié. Quindi c'è questa cosa lì. C'è un bivio. Buoni che è entrato Mufini. Buoni. 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 Visto. Si sto svuotando tutto. C'è un bivio. Vedi? C'è un bivio. C'è un bivio. E qui c'è. E non sa chi è il timone. Quando c'è un bivio. In mezzo al mare. E non si sa. E' un casino. E' un casino. E' un casino. E' un casino. Oh. E poi c'è una. E' un casino. Non ne capilli sta macchina. Mi sono affettinato per Audi. Bello. Bello. Che sei. Bello. Stamattina. Non è osservato. Bella però la Ferrari. Ferrari. Ferrari dice. Gasse. La gestione associata. Ehi. Io sono un gregario. Ah si. E attende la decisione. Ah fai anche la recita stamattina. Di direttore d'orchestra. Come vi aspetto gli altri. Non c'ho niente. Sono lì. Sono alla finestra. E di fondo entrò Luca Simoni. Appa cura. Appa cura. Appa cura. Resta alla finestra. Resta alla finestra. E al momento. Non ti buttà di sotto. E non sputà più che altro. E al momento giusto. Prenderò la mia scelta. Per i beni lì. Primo luogo. Primo luogo. E Porto Ebrae. Allora ne è bene lì. Ehm. Se il primo luogo è Porto Ebrae. Ehm. 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 Che c'è il latino. C'è il napoletano. C'è tutto. C'è tutto. Anche un paio d'occhiare di merda. Vedo stamattina. È un caldo scopio. No. No. Guarda che erano anni. Vabbè perché sono il tipo tuo da. No. Ma questo. Da pezzolina al collo. Questo è da bocchia. Questo è da bocchia. Da bocchia. Guardi. Grande regi. Regi. M'arrivatene a fare. Poi mica tutti abbiamo gli occhi azzurri come i suoi che conquistano. Ehm. Ehm. Poi insomma il vostro lucro è abbastanza simile secondo me. Sì. La scuola. Più trendi. La scuola del trendi. Di chi sei? Quaranti. Sono anche cinquanti. Quasi cinquanti. Questi cinquanti. Sono incarcati. Allora l'ITC Cerboni. Scala delle classiche regionali. Ah sì. La scuola della scuola. Viaggia. La scuola del Bana secondo polo tecnico di lato scato. Buongiorno Purpo. In arrivo un premio per 10.000 euro. 10.000 euro. Meno. Ho i miei. Di sei anni. Sui miei scuoli della scuola è la seconda. Prova qui c'è gente che la scuola qui lo sai. No. Si. Ho andato a partenare. Ma lì mi piace. C'è uno di bianchi anche io. Sì sì. Anche lì. Quindi. E' lì sì. E' già lì ci pigliamo. Hanno fatto il botto. Easy. Ricordiamolo. Che non è la famosa stituto. Dai. Bravo. 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 Insomma. S'hanno fatto. In scena i personaggi. Nel poema di arresto. C'è l'Orlando Furious. Brava. Di già scuola. L'Orlando Furious. No. Noi ci siamo lì. Mossa. Tornando Furious. Doi ricordi. Il bersagliere. Il bersagliere. Tornando già un po' non si sente. No. E' sempre dice. Francesca da te. Dunque. Bravissimi. Tornando Furious. no lui è evidente veniva anni fa le dico del bar perché non era in diretta prima si registrava non esistevano le dirette e lui è famoso Pasquale che veniva veniva si può presentare alla presenza di te che sono millesima volta da qualche anni che mi intervista Pasquale sono 16 anni 7 che sono a Porta Azzurro infatti sono venuto da solo e ora siamo in quattro a posto e quindi perciò non mi vedete hai figliato come si dice in gergo abbondantemente poi saluta il Marconi di dietro dove è andato Marconi ma chi dice Mughini? Marco chi? Tedeschi? è nulla c'è dove fai vabbè non mi hanno indicato tanto basta non ha capito se Bibi vuole salutare a Mughini o no se no mi ha chiamato Mughini che col suo carattere abbastanza così sociale ci manderà subito a fare in culo appena lo chiamo però se te mi dici si è Marco Tedeschi io lo chiamo ho l'autorità per farlo alzare dalla sede sono l'articolo a volte che confondono si che gonfiano perché vabbè lui si fa i fatti rifugiati accolti nel golfo sembra che l'hai buttati nel golfo mare capito? dici guarda dici non c'è più qui state dice qualche scoglio ci sarà qualche scoglio ci sarà qualcosa troverete capito? e poi vieni un po' qui penso sei te ma ho detto salutimi a Marconi lì indietro Marconi sei io che sei alto penso sì penso sì ma sto chiedendo infatti se ciao Bibi Fontana Bibi Fontana dei cazzo è lei? allora sei te? sì allora guarda ciao Bibi lui si chiama Mughini perché Marconi e io ero spiazzato lui è Mughini per una leggera leggerissima beh Napolet che cazzo fai? mi senti mentre mangio alla canata e allora è una colazione e allora è Fava ma non è mica eh se no facevo una trasmissione l'avrei chiamata che ne so ma gastroscopia ma fai dì che finita a fare ancora guarda qua guarda qua guarda qua fatti vedere quando mangi perché la gente fa un momento pubblicità se ti piace vai dire che piacchi vieni qui eh si brucia anche la bocca che fichetta ora non vuole fare una fichetta ufficiale a te no però lui ti sarebbe pulito anche l'arte col pezzettino uno che va al giro con la sciarpetta e sto chiaro di merda visto che non vado bello bello spero sono il carbato chi? la Fontana sì sì è lui allora Bibi Fontana in diretta una carambata saluta Marco Tedeschi in arte Mughini dopo anni è qui dopo anni è qui c'è nel film dell'Arno c'è nel film dell'Arno una volta c'hanno un estronzo capisca è già una star è già una star di giacca arriva lì boh ma dove saliva c'è il film dell'Arno come è pensato di essere un sono 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 non so io se non so me poi c'è il definire po' che fare di merda madonna ma si è scegli ma poi è stretto stile ho fatto così torta del mio di geni via e se va buon 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 lo fai il cane aspetta perché caccia qualche pezzettino di buono buono nemmeno cani veri buono anche il gatto innamorato mia figlia direbbe bau Pasquale c'ha la faccia di un collega e chi è questo pensavo di cuglione buongiori rovanni aspetta che c'è un messaggio e mai direi che dopo questo stavoce non ti mette spettura mettite la sedia stamattina devo venire in banca a comprare dentro al lavoro i buoni pasto i buoni pasto ho il pagliato d'altra mi dico no vuole essere oggi ti vuoi oggi mi faccio al lavoro ragazzi ti evito che non ce l'hanno non ce l'hanno non ce l'hanno non ce l'hanno che poi l'ho visto l'ho visto l'ho visto oggi è 24 oggi è 24 il numero 23 nella cabala è la bella polemica sai che cos'è il numero 23 nella cabala il buco di culo o sce ma invece no è il buco di culo come 47 48 è sempre sta cosa è molto che parla perché era importante per quanto riguarda quindi appello a Sergio Rossi Sergio Rossi pubblica perché era la polemica esce da lanciare un progetto ragazzi e non ce l'ho lanciare 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 qui quando c'hai un'idea la devi prima te ne sviluppa e poi la fai e se qui dici le cose questo è un'essenzialmente che do sempre a mia figliola io fatti cazzi tu se c'hai un'idea tentala per te allora oggi però si corretto uso un termine di dire ho una start up ho una start up con questa casa start up scusate per me bellissimo ragazzi quindi c'è l'ultimo geli fra 11 mesi la regia la regia ci informa la regia è tanta roba no no ma l'abbiamo già fatto lui è come l'auricolare a buon compagno si 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 non è la RAI tu che fai ? che? tu volendo madonna che le prime se che io le prime se che ho sono no no c'è quelle bimbotte no sul microfono quelle bimbotte con quelle cosciotte ero innamorato di 3 o 4 io c'erano rifatti contereci c'è il tuo adicene anch'io, 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 però io ero un bellissimo di dirgli no, fermi, 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 fermi fermi, fermi, fermi sarebbe a D? non so, dalla D dalla D, ultima notizia stasera, Fiorentina, Napoli, Fiorentina ma come guarda, il bel tramonto sai che te? ci sei anche te, ci sai anch'io ci siamo tutti, quindi ci picchiamo e vincca il Napoli e vincca il Napoli vediamo che il Napoli vincca Coppa Italia no, quarti di finale di Coppa Italia chi vince questa va ai semifinali quindi stasera dopo tanti anni Marano verrà lasciato al bel tramonto perché se vincemo ti tronco, se perdemo ti tronco, comunque vada sarà un successo grazie prego Peppino, prego quindi siamo pronti, regini a qualcos'altro? diciamo, inizia importante il festival di Saremo per Beppe Vessicchio ci importa una? sei se non c'è luce sarebbe Sarebbe Beppe Vessicchio sarebbe bene lo farebbero proprio Sarebbe eh, infatti soldi risparmiati 650 mila euro signor Contri eh, te lo voglio mi vede quella lampa eh che stanno ancora i 15 mortali sotto lì sono 6 giorni ne riesce a e noi perché saremo e saremo parapapapapapa che ragia di merda io guardo solo se c'è un amico Giuseppe Povia lui lui se c'è lui se a Saremo mi mettete lui io lo riguardo perché mi ha dato spunto per tante belle canzoni mi ha fatto diventare famoso lui se io sono Stix e grazie a Giuseppe Povia e con questa mega canzata che ho detto ma lui c'è l'antaggia dopo poi c'è l'antaggia dopo che era bimbo che ha fatto la conoscenza perché per me scusate scusate questo è mettiti qui mettiti a bianco mettiti a bianco mettiti a bianco madonna questo è lui e questo è ora lui quindi pensa quanti anni sono passati e come si invecchia anche io mi ha fatto diventare famoso con Luca era gay sì, sì sì, infatti arrivederci a tutti dal Beach Bar questa mattina con il segnale finalmente decente quindi niente diventa la roba